Per l'Italian Cannabis Business School io coordino tutto quanto il corso specialistico rivolto all'agronomia e ai metodi tradizionali e innovativi di coltivazione della canapa. In particolare la mia lezione riguarderà la coltivazione dell'infiorescenza di canapa con la tecnica outdoor, quindi con la tecnica tradizionale. Siamo qui a questo evento di Sea Joint in qualità di docenti ed esperti della materia, degli stupefacenti in generale, in particolare di questo nuovo fenomeno della cosiddetta Cannabis Light. Il nostro messaggio anche come professionisti, questa battaglia di principio che abbiamo portato nell'Aule Giudiziaria e ci sembra giusto e doveroso anche portarlo fuori dalle Aule Giudiziarie. Ieri ho parlato di mercati europei e italiani, possibilità di sviluppo, invece oggi sottolineerò il fatto di filiera di prodotti fibra e canapoli in quello che è il mercato italiano, per quell'opportunità di sviluppo che c'è per l'Italia di questi fantastici prodotti che vengono dalla paglia di canapa. Parlo ai corsisti dei derivati alimentari della canapa e di quali settori commerciali interessano appunto, quali sono gli sbocchi commerciali per chi vuole lavorare questi prodotti, che cosa ancora si può realizzare da questi prodotti, perché non ci fermiamo alla farina, all'olio, al seme di canapa, ma hanno tantissimi derivati, un po' come sono le fibre di questa pianta. Sono un dottore in agraria che lavora nel settore dell'agricoltura e della consulenza tecnica alle imprese agricole. Oggi parleremo nello specifico di come affrontare una coltivazione in campo aperto, quindi più nello specifico come bisogna preparare un terreno agricolo per poter coltivare canapa, come vanno affrontate le varie fasi dello sviluppo della pianta e della piantagione. Ci occuperemo di marketing, un'introduzione di base ai concetti per tutti quelli che vorranno avviarsi a un'attività qualsiasi nel mondo della cannabis, dal punto di vista commerciale. Sono Luca Milauro e sono il project manager di Canesis. Sono qui oggi per parlare di materiali termoplastici biocompositi. Mi occupo di marketing e innovazione. Sono qui per presentare un corso che si chiama Da Zero a Uno e quindi come si idea, si coltiva e si fa crescere una start-up. Sono un economista che fa ricerca alla Sorbona di Parigi. Mi occupo di tutti quelli che sono gli aspetti economici legati alla cannabis, partendo dalla canapa industriale e tutte le possibilità che esistono con questi materiali di poi ottenere dei derivati che abbiano un valore economico e che rilanciano in un certo senso anche la filiera italiana.